buongiorno a tutti allora partiamo con le schedine del gigione per quanto riguarda l'europa league allora ho preparato già anche tre bollettine separate con quattro partite quindi globalmente sono 12 partite diviso in bollette da quattro partite quindi quattro partite le sei bollette quattro partite le sei bollette quattro partite le sei bollette che vedrete nel video successivo in modo che per domani mattina ma spero anche prima siano online sia le schedine doppie quelle solite che faccio sia le bollette in modo che così avete tutto visto che si gioca giovedì adesso sono le quattro e mezza del pomeriggio di aiuto di mercoledì quindi c'è tutto il tempo quindi partiamo subito con le partite di giovedì primo ottobre 2020 per quanto riguarda la schedina e bollettine del gigione per l'europa league club 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 Slovan, Liberec, Apoel, Nicosia, 1x Malmö, Granada, x2 Charleroi, squadra belga, Lesch, Poznan, 1x Rosenborg, PSV e Doven, a mio rischio e pericolo, 2 Dynamo, Brest, Ludo Goretz, 2 Standardiegi, Fehervar, 1 Attenzione però alle squadre ungheresi, attenzione Però penso che la squadra belga dovrebbe avere la meglio Poi tutto può essere Copenaghen, Rieca, 1 Dundalk, Ki, 1 Jan Boys, Tirana, 1 Basilea, CSKA, Sofia, 1 Rangers-Glesgow, questa è la partita più bella Penso che sia questa che quella successiva Rangers-Glesgow, Galatasaray Partita da tripla, proprio non ve la consiglio Però io mi arrischio l'1-2 Però veramente è una partita da tripla Se fosse non a porte chiuse mettevo l'1 fisso Perché i Rangers in casa sono tostevoli se c'è il pubblico Se non c'è il pubblico può succedere di tutto Stesso discorso per Aikap Atene, Wolfsburg, X2 Volendo si poteva rischiare anche il 2 Ma visto che è una schedina non ne ho messe troppe di doppie La spreco per Aikap Atene e Wolfsburg Tottenham, Maccabi Haifa, 1 Anche questa è bella Sporting Lisbona, Lask, squadra austriaca, 1x E Rioave, Milan, X2 Anche se volendo i milanisti potrebbero mettere 2 Però non è che mi fido esageratamente di questo Rioave Che non scherza per nulla Veniamo alla schedina alternativa Cluj, Kups, over 1,5 Ararat, Stella Rossa, over 1,5 Dynamo, Zagabria, Flora, over 2,5 Liberec, o Slovan Liberec, che dir si voglia Paul Nicosia, io mi arrischio il gol Ma tenetene conto perché è un po' arrischiato Però non lo so, di pancia mi è venuto gol Poi dopo magari finisce 0-0 come al solito Mi fa generare i testi 2-0, 3-0 ecc Malmò, Granada, over 1,5 Charleroale, Spotsdam, over 1,5 Rosenborg, PSV, anche qui di pancia Dico gol Però è a mio rischio e pericolo Voi tenetene sempre conto Dinano, Brest, Ludogoretz, over 1,5 Standard Liege, Fervar, over 1,5 Copenhagen, Rieca, a mio rischio e pericolo Under 3,5 perché sapete che non amo gli under Però questa mi puzza da under 2-0, 3-0 al massimo Non penso, o 2-1 ecco Non penso salteranno fuori tantissimi gol Anche perché il Copenhagen non è mai stata una squadra che Segnava una valangata le gol A meno che non trova la squadra Materasso Allora vabbè Marlieca non credo che faccia la squadra Materasso Dundalk, Kee, over 1,5 Forse qua potrebbe starci anche un over 2,5 Ma un irlandese contro il Kee Vabbè Avremo a vedere Over 1,5 Stiamo schisci Youngboy, Stirana, over 1,5 Basilea, CSKA, Sofia, over 1,5 Rangers, Galatasaray, gol Perché questa per me è una partita da spettacolaus Peccato che non fanno diretta gol Europa League Non mi sembra almeno Hai K-Tene, Bosburg, over 2,5 O potrebbe starci anche il gol qua Volendo Tottenham, hai, fa over 2,5 A mio rischio e pericolo Perché il Tottenham è un'altra squadra che 1-0, 2-0 Non sprecano anche se c'è Murigno in panchina Non è che si sprecano troppo Poi domenica hanno preso la pinocchiata All'ultimo minuto del calcio di rigore Che si è ingrifato con una Iena, Murigno Anzi si è incazzeto Sporting Lask, gol Perché secondo me anche questa si presta E arrivava Milan a mio rischio e pericolo Under 3,5 Perché non lo so A me puzza di Di 0-1 0-0 Eccetera Cioè Poi sai Il Milan non avendo Ibra Potrebbe anche far fatica Questi sono Sono dangerous Poi magari se gli segni un gol Va via il Milan alla grande E vince 2-3-0 Però visto che ha vinto solo col Crotone 2-0 Credo che con Riave Poi tutto può essere Magari mi vinco 6-0 E vabbè Tanto di cappello Però Detto questo Io vi saluto Vi ringrazio Vado a prendere le altre bollettine Che così ve le preparo E vi faccio subito il video Anche se sono già pronte Sono stato lì a prepararle Però ho separato le due cose Prima di concludere Volevo dirvi una piccola Postillina veloce veloce Di quello che Come io mi strutturo Nelle scommessine Come vi dicevo Io faccio Delle bollettine Da 2 euro Tendenzialmente Quando c'è il campionato Vedo un po' le partite Che ci sono Cerco di giocare Magari delle accoppiate Due partite Che mi venga fuori Circa il doppio Quindi anche se Mi esce Gioco 2 euro Ne vinco 3-80 Va bene Se gioco 2 euro Ne vinco 4-20 Va bene Però cerco di stare Sempre su queste cifre qua Ridicole Lo so Gioco le mie 5 bollettine Che tendenzialmente Almeno 3 Le porto a casa In questo modo 3 per 4 Fa 12 Io ho investito 10 euro Ne ho vinti 12 e mezzo 13 13 e mezzo Io la chiamo La plusvalenza Quindi se ho giocato 10 euro Ne vinco 13 e 50 Io ho una plusvalenza Del 35% Su quello che ho giocato E a me va bene così Cioè io sto giocando così So che per morti Ti giochi Per ciappare la moneta A me va bene Prendere la moneta A me interessa Quando investo Tra virgolette Perché sono giocate X soldi Mi interessa Che all'esito finale Io ho un X Più Che sia un X Più 1 2 5 10 15 Va bene tutto La cosa importante Che è un X Più E non un X Meno Perché ogni tanto Capita che ho anche L'X meno Però cerco di Barcamenarmi In modo che così I miei 10 euro Che investo a inizio mese Alla fine del mese Ce li ho ancora Magari si sono anche Raddoppiati Magari si sono anche Triplicati Ma non di dover Reinvestire Altri 10 euro E' vero che col fatto Che è un po' Che non Non investivo Ancora un Un credito Messile Di un 30 euro Circa Quindi il mese prossimo Ancora 30 euro Eventualmente Da investire Però Se posso evitare Perché per me Deve essere Un piacere Un divertimento Non un Devo vincere Devo vincere Devo vincere No E' un divertimento Poi certo C'ho il mio amico Anche oggi Mi ha mandato Il messaggino Ha giocato 60 euro Ne ha vinti 300 L'altro giorno Ne ha giocati 150 Ne ha vinti 200 Lui gioca così Però io Anche se li avessi Non è Nelle mie corde Giocare in questa maniera Io mi faccio Le mie 5 schedine Da 2 euro E poi vedo Cosa salta fuori In questo modo Sempre soldini Da poter giocare E Fissi E così Posso divertirmi Senza andare A A impelagarmi In situazioni Poco simpatiche Come direbbe qualcuno Detto questo Ci vediamo Alla prossima Ciao Us